Siete qui nel mio studio, voglio presentarvi il nuovo reality X, 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 Fark e Thor. L'attore non sarei io, ma è... Ready, baby? Yeah, I'm ready! Ve la ricordate? Lì faceva parte di quella vostra giuria, X, 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 quella con gli occhialini. Guardate, ma guardate, solo che la nostra cantante e giurista aveva delle tette così, non me lo ricordo, aveva un sedere così, non me lo ricordo, ma soprattutto guardate che figa, guardate che galla, si allontani lei, camera manda la giuria, si allontani, guardate che topa! E c'è anche gli occhietti un po' che vanno a destra e a sinistra, che io vi prometto, riadrizzerò molto volentieri, perché ho il metodo, sei X, 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 Rocco, Mi, Mi, Rifà, Rifà, Il culetto, Il culetto. Voilà, ciao! La faccio cantare! 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 Oh! Oh! E Rocco? Rocco! Me lo butta giù! Oh ragazzi, è la salsia! È la salsia! È la salsia! Yeah, you're a salsia in Italy! Yeah, you're a salsia! Oh, non posso mostrarvi di più, perché se no su YouTube ci tagliano subito tutto, eh! Però ragazzi, presso questo schermo, non perdetevi questo reality, X, 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 lo butto giù, ciao!